Allora, eccoci qua amici di Yoga e Italy e tutti voi che ci state guardando avete subito riconosciuto perché ha uno stile particolare, uno stile interessantissimo Slavko Kalesic dal Montenegro, ciao! Ciao e grande bacio per tutti i miei fans italiani Perché Slavko parla italiano, tu parli italiano molto bene Ah, finalmente, finalmente, tutto inglese, 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 adesso, oggi italiano Si parla italiano perché lo imparavo nella scuola come per dieci anni E' una cosa che è molto importante che io davvero come da bambino guardando la televisione italiana con la mia non erai uno, erai due, Raffaella, Caracca, Rambas, che sorpresa, Soletti, Coai, Mazzecchino d'Oro Oddio, mi fai tornare bambina Slavko? Ma tu sei un artista, sei veramente un artista vero perché tu reciti, tu fai di tutto ma raccontaci un poco di tutto quello che fai oltre a cantare Sì, ho finito la Drama Accademia in Montenegro nel 2007 dopo mi sono iscritto sulla specializzazione del cantare nella danza sull'Accademia e dopo ho fatto la magistrazione come del movimento dell'attore nel 2009 così io sono diventato un membro del Montenegro Teatro Nazionale e sono membro per dieci anni sì, e nel 2011 ho cominciato con la mia carriera musica ho fatto il primo singolo e una cosa che è molto importante per me quando parliamo della musica è che io ho deciso di fare la musica nel senso del performanzo sai, non volevo fare la musica, per esempio, quando io ho fatto un nuovo singolo la premiera del questo, o come la presentazione, l'ho fatto nel teatro io ho fatto un genre che si chiama One Man Show e io ho fatto un performanzo per un'ora, per esempio e forse nel mezzo del mio performanzo io ho fatto questo singolo, sai tanti costumi, videi, le luci e tutto questo che si fa nel teatro perché io voglio che il mio pubblico a me non mi piace quando tanti, tanti artisti sono, per esempio, nei club e fanno il suo performanzo e tanta gente balla e non guarda che cosa lui fa, io non posso sopportare questo quando io ho fatto qualcosa il mio pubblico deve siedere e guardare a me sulla scena sei incredibile no, ma guarda, veramente, tu sei proprio un artista non sei solo un cantante che viene qui a cantare la sua canzone grazie molto ma senti, ma questa tua canzone che si chiama Space parlaci un po' di quello che significa per te per me Space significa davvero l'amore perché davvero io ho sentito tante parole, tanti articoli ho fatto una rivoluzione per questo, sono molto orgoglioso e davvero mi sento molto speciale ma la mia canzone parla della libertà della libertà davvero che io voglio ispirare tutta questa gente che davvero non ha forse il coraggio o non ha, non so, la sua energia di fare tutto questo che vuole fare nella sua vita e forse tutti i talenti che lui nasconde nel suo corpo così ho fatto un concetto che è molto speciale, unico e sono molto felice che tutto questo è percepito in uno senso che io volevo che si succeda bellissimo guarda, veramente sono ansiosa di vederti sul palco ma verrai qualche volta anche in Italia a fare qualcuna delle tue performance che possiamo... io davvero vorrei perché per esempio io davvero adoro l'Italia ho soltanto della cultura italiana, parlo italiano la mia cantante preferita ok, adoro anche Francesco perché che cosa è successo? quando ho guardato Sanremo, Festival di Sanremo sono entrato nell'appartamento del mio amico che guarda anche il Festival di Sanremo lui ha acceso il televisore e la prima scena era Francesco io non sapevo chi è Francesco Capani e quando ho visto io ho detto lui è vincitore fantastico dopo due giorni l'amico mi ha chiamato sai chi ha vinto il Sanremo? Francesco! io ti ho detto ma la mia cantante preferita italiana è Giorgia io la adoro mamma mia e davvero voglio incontrarla e voglio parlare con lei perché lei è di sole ed azzurro vorrei liberarti l'anima lei è un pazzesco artista mamma mia la adoro ma guarda qui siamo in molti a condividere poi hai scelto una delle sue canzoni più belle secondo me di sole ed azzurro 2001 bellissima senti ma però un artista come te così anche prorompente volendo non si sente un pochino diciamo limitato nei tre minuti di un'esibizione all'Eurovision? no perché io avevo tre minuti e questa è una cosa molto bella che io sono un attore professionale e quanto tu mi dai io quanto mi ha qualcuno mi ha dato io di questo farò che cosa si deve fare così nei questi tre minuti io penso che ho fatto una coreografia un concetto tutto questo che io volevo fare è che il pubblico può vedere anche i come si dice jury la giuria possono vedere tutto questo che io volevo rappresentare e io spero che loro mi daranno i voti che io posso presentare anche la mia arte nel Grand Final beh speriamo tutti e quindi ok abbiamo dobbiamo lasciarlo ad altre interviste perché è richiestissimo veramente facciamo tutti soltanto un saluto al nostro club che è Ogae Italy io volevo perché io ho ricevuto tanti messaggi di Ogae Italy e davvero voglio ringraziarvi per tutto il supporto e l'amore che ho ricevuto tanti questi mesi un grande bacione ciao a tutti ragazzi ciao